Ma, caduto il sindaco, deve essere arrivato un altro, il quale ha pensato che siccome la piazza più bella della provincia di Firenze è quella di Figline Valdanno, non si può lasciare così bella, è bene stuprarla. E quindi hanno una quantità di denaro per mettere qualunque arredo urbano, qualunque pianta, cambiare la risposta. No! Mettetevi le mani nel culo! A cittadini di Figline, ribellatevi! Conservate la vostra piazza e i soldi li diamo ai poveri! Non li buttino via perché ce li hanno! Sono soldi delle vostre tasse usati per distruggere Figline Valdanno! Ribellatevi! Mandatele a fare il culo!